Iniziamo a fare la pagina del video di febbraio e questo sarà un calendario che fa parte del nostro progetto che si chiama Art Journal Party L'Art Journal Party è un programma che abbiamo preparato qui con Martina e fa parte di una raccolta di corsi a cui vi potete iscrivere è un programma di mixed media dove in ogni lezione vengono insegnate diverse tecniche Grazie a tutti 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 Grazie a tutti